ciao ragazzi ho scoperto una cosa al di poco piacevole la concessionaria opel mi ha stretto troppo le ruote i bulloni delle ruote e ora me ne sono accorto fortuna ma se io mi trovavo per strada e dovevo cambiare una ruota perché buco come come si fa questa è la chiave che aveva originale in dotazione alla macchina devo chiamare una persona che pesa 200 kg per far smontare una ruota grazie concessionaria c'è ora voglio sapere io che ci faccio con la ruota di scorta che me la devi a fare la ruota di scorta se non la posso cambiare perché mi stringe a morte i bulloni delle ruote cioè e poi anzi voglio sapere quanto me le hai stretti perché così mi hai sderbato mi hai sderbato tutta la filettatura del bullone devo voler andare da un gommista che ha la pistola per i camion e fammela smontare fammela smontare tutte quante fammi sfida tutti quanti i bulloni e e restringe a una potenza decente ok l'unico modo per smontare questi bulloni agire di agire con le maniere forti ringrazio l'amico stefanino che mi ha fornito il tubicino con il gioco delle delle leve con facilità riusciamo a allentare allentare le nostre i nostri bulloni allora non vanno stretti tanto perché creano problemi sderbature si rovina troppo anche perché poi se noi stiamo per strada come facciamo a cambiare ruota ok ragazzi questo bravissimo video un po fatto per per scazzo vi saluto iscrivetevi al canale di facebook meccanica fai tre iscriviti al canale youtube e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi